Segretario, che cosa significa l'elezione alle europee di Susanna Ceccardi per il suo partito? Sicuramente un importante risultato ottenuto, innanzitutto per dare continuità a quello che è stato un lavoro costante e importante che ha portato avanti in questi cinque anni all'interno del Parlamento europeo. Oltretutto per noi è a maggior soddisfazione proprio perché nel collegio del Centro Italia, che raggiunge quindi quattro regioni importanti come il Lazio, Umbria, Marche e Toscana, abbiamo messo una persona del territorio e questo è sicuramente fondamentale. Come è importantissimo anche il risultato che ha ottenuto Personale, visto che è la terza più votata dopo Meloni e Vannacci. C'è un dibattito in corso sulle primarie nel centro-destra per regionali e comunali. Lei che cosa ne pensa? Noi giusto sabato scorso abbiamo dibattuto questo argomento all'interno del nostro direttivo regionale, visto che questa proposta è stata avanzata dal nostro parlamentare Andrea Barabotti già da qualche tempo e noi come direttivo regionale l'abbiamo approvata per quello che riguarda la regionale. Certo è che è un argomento che si può allargare anche ad altri gradi di votazione. Per quello che mi riguarda personalmente potrebbe essere un elemento importantissimo, soprattutto in un'ottica che vede il modo di riavvicinare l'elettorato. Si parla sempre del partito più importante che è quello degli astenuti. Potrebbe essere un modo per coinvolgere gli elettori e farli riavvicinare finalmente alla politica. Lei come commenta la situazione locale della Lega, in modo particolare quella degli eletti, dei principali eletti nel territorio? Il risultato del nostro partito sappiamo benissimo che non è stato eccellente. Ci aspettavamo sicuramente un risultato più importante, però gli eletti sono sicuramente di grande livello. La Farsi dal sindaco di Castiglione, Fiorentino Mariagnelli, che all'interno della sua giunta ha anche un assessore di grande calibro.